Una lite tra le mura domestiche è finita in tragedia. Un uomo è morto nella notte tra martedì e mercoledì a Cilavegna. La vittima si chiamava Giuseppe Sgroi, 54 anni. Viveva in un appartamento all'ultimo piano del condominio Legginestre, in Via dei Mille, zona semicentrale del paese. In quella casa abitavano anche il fratello e un coinquilino, che da qualche tempo stava con loro. Entrambi sono stati portati in caserma dai carabinieri per un lungo interrogatorio e, secondo indiscrezioni, proprio la posizione del coinquilino sarebbe la più grave. La lite sarebbe avvenuta intorno all'una di notte. Sul corpo di Giuseppe Sgroi sono stati trovati segni di percosse. Secondo quanto riportato da diverse persone residenti in zona, le tensioni in quella casa non erano una novità. I fratelli Sgroi frequentavano bar e luoghi di ritrovo del paese, erano piuttosto conosciuti. La vittima aveva un lavoro regolare, mentre invece le altre due persone presenti in casa avrebbero avuto fonti di sostentamento assai più precarie e questo sarebbe stato uno dei motivi dei frequenti litigi. Pur confermando una situazione tutt'altro che tranquilla, però nessuno dei vicini si sarebbe aspettato un epilogo violento. Giuseppe Sgroi, come detto, aveva un lavoro regolare. Nel recente passato aveva avuto anche delle esperienze politiche e informazioni locali di centrodestra. Per qualche mese, tra 2020 e 2021, era stato consigliere comunale a Cozzolo, Mellina. La famiglia Sgroi è conosciuta anche a Vigevano. I genitori della vittima, entrambi i deceduti, erano stati per anni custodi di un residence in Viale Petrarca. Sia Giuseppe che il fratello avevano avuto assistenza in passato dai servizi sociali del comune di Cilavegna. Con il suo lavoro, però, Giuseppe ormai da tempo era in grado di provvedere alla propria stabilità economica. La sua tragica scomparsa ha lasciato sgomenti i tanti che lo conoscevano.